Siamo felici anche quest'oggi di essere qui a questa 19esima fiera del primo maggio organizzata dall'associazione Noccianover. Il comune di Nocciano è lieto di continuare a collaborare con questa associazione per la riuscita di un evento che è diventato ormai un evento di promozione non solo del territorio di Nocciano ma di tutta la provincia. Sono felice che quest'oggi siano qui vicino a noi presenti il consigliere regionale De Renzis e il consigliere provinciale Giancola a dimostrazione che le istituzioni credono in questi eventi, in queste tradizioni che possono dare il giusto riscontro al lavoro e all'impegno di persone come Vincenzo Giancaterino, il presidente dell'associazione Noccianover che si impegna ormai da lungo tempo a favore di Nocciano e del nostro territorio. La 19esima edizione della fiera del primo maggio, l'associazione Noccianover anche quest'anno ha fatto delle belle cose, si vede. Mi hanno ricondattato per essere di nuovo in prima fila, ringrazio gli espositori, il sindaco e tutte le persone che sono intervenute. Quest'anno ho voluto fare la ciliegina sulla torta, la dimostrazione della aratura. Da tempo che avevo in mente di farlo ci sono riuscito, sono contento e orgoglioso di quello che ho fatto. Andremo sempre avanti, il prossimo anno cercheremo di essere sempre meglio della precedente.